Essere nonni non è per niente facile e soprattutto nessuno ti spiega come farlo. Allora, bambini, chi di voi non mi vuole aiutare? Grazie, nonno. Preferiamo prima osservare bene come si fa. Ando, siete bella, nonno. Mi ha chiamato mio padre. Torna domani dal Messico e vuole conoscere i ragazzi. Ci vado proprio io a prenderlo. In bocca al lupo. Eccolo! Non lo vedo da dieci anni. Non mi fido, non voglio che sia con i miei figli. Ah, e qui era da Hollywood. Faceva lo stuntman. Tutto sa fare, eh. C'è da dire. Ma quindi tu hai conosciuto Brad Pitt? Brad è un fratello. Ma che neanche lo conosce? Mi mancherete. Vedete l'aereo, forse. Stamattina si va al Museo di Scienze Naturali. Comeriggio, direi. Sarà giochi insieme! I consuoceri sono terribili. Quello che ha portato sul suo territorio. Oh! Quindi allungo verso le punte dei piedi. Ciao! Ehi! Qui tutto bene. Mamma, mamma! Stavo per perdere un occhio. Non male che c'ero io. Una robosa! Eh, però è alto, eh. Guarda che questa non è una battaglia tra di noi, eh. Chi e te possiamo essere una squadra? Una fidanzata! E lui, un cantante, un trappero. Debbie, attacciati al balcone. Giulietta e Romero. Che ti mostro il mio bidone? No, lui se mi piace. Che vuoi dire? Animalista. Ciao! 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 Ciao!